Oggi Madre Teresa di Calcutta diventerà santa. Il Papa, il Pontefice Francesco lo ha annunciato con grande enfasi e naturalmente ha ricordato tutta una serie di insegnamenti che questa piccola grande donna ci ha lasciato. Pensate ad un aneddoto in particolare che ricordo di aver letto qualche anno fa quando Madre Teresa incontrò in uno dei suoi tanti giri un povero, questo povero si avvicinò a lei e disse vorrei in qualche modo darle quello che io riesco a raccogliere per i suoi poveri. Madre Teresa lo guardò, pensò un attimo non posso rifiutare anche pochi soldi a quest'uomo anche se so che magari stasera non mangerà per darmeli perché questi soldi magari lui li vuole donare ad altri che a suo parere hanno più bisogno di lui e così ha preso questi soldi ed ha visto il volto di quest'uomo illuminarsi e anche in quell'occasione ha ribadito che quello era l'amore. Se noi analizziamo un po' questo episodio, analizziamo la vita di Madre Teresa che in queste ore media ci stanno raccontando e anche la cattiveria che in queste ore sta viaggiando sulla rete sicuramente ci rendiamo conto che c'è qualcosa nel nostro mondo, nella nostra società che non va. Forse abbiamo perso proprio la voglia di donare amore e di riceverlo, forse abbiamo perso anche quel minimo di umanità che ci contraddistingue. Pensate alle tante persone che stanno andando a rubare quel poco che è rimasto dentro le case terremotate, pensate alle cattiverie che stanno viaggiando sulla rete. Pensate alla satira che diventa ancora più cattiva quando per esempio accusa anche persone per bene che si sono fatte costruire una casa da un muratore per bene di avere delle case che sono state costruite dalla mafia. Insomma è l'immagine di un paese offuscata dalla delinquenza e dalla corruzione che certamente è presente ma è l'immagine di un paese che invece storicamente ha sempre saputo accogliere, ha sempre saputo donare amore, ha sempre saputo essere all'avanguardia nel dare oltre che ricevere. Però diciamo che in queste ore stiamo anche capendo che alcuni grandi temi vengono trattati con superficialità. Non voglio ritornare sulla campagna, sulla fertilità su cui ho già scritto ma ritengo che anche in quel caso si è trattato di una scarsa delicatezza nei confronti di mamme che vorrebbero avere figli, di ragazze che non possono sposarsi, che non possono nemmeno concepire perché naturalmente i mezzi economici non lo consentono. Insomma una società abbastanza malata, una società che deve ricapire quali sono i valori. Diceva madre Teresa quanto meno abbiamo più diamo. Sembra assurdo però questa è la logica dell'amore. Ecco perseguiamo questa logica, vogliamoci più bene e cerchiamo di essere meno cattivi.